Allora, ma che gioco stai giocando, Oscar? Non hai capito niente, lo sai? Non sai fare altro che mentire a me e mentire a tua figlia? Non avrai dovuto dirti un cazzo! Avrai dovuto tenerlo per me! Così almeno te ne stavi col becco chiuso! Preferivi continuare a fingere? Stare tutto il giorno a spacciare e a fartela con chissà chi e chissà cosa mentre io sono al lavoro? Che bravo! Non mi stai neanche a sentire! Dovresti essere sincero con me, invece ti piace prendermi per il culo! E dopo aver raccontato stronzate per due settimane ti trovi nella merda e sputi il rospo! Oggi cosa hai fatto? Eh? Lo so, hai venduto la merda! E invece ho smesso con la roba fina! Era quello che stavo cercando di dirti! Sono stanco! Pensavo di poter ricominciare! Ma non è facile! Se sp�si mi perché i chissi di un sese di piatto! E se sp�si mi parte iıyoruz con il difio! Si saluto il trasferio! Non c'è чиId! Grazie.